Proprio non riesce alla vastese di Favo di decollare e trovare un possibile posto al sole. Troppi punti persi per strada segnano ora un percorso nel classico anonimato, con la grande occasione di avvicinarsi alla zona play-off letteralmente dilapidata. All'Aragona passa l'Alfonsine di bassa classifica, di misura tra i mille malumori di una tifoseria che pensava a ben altri esiti. Senza lo squalificato Cosenza e l'infortunato romano, Favo propone un 4-2-3-1 che non brilla con Galizia, Fiore e Mensa a sorreggere Prisco. Gli abruzzesi partono bene, si rendono pericolosi con Fiore all'ottavo minuto, ma peccano di concretezza e spunti efficaci d'attacco e guai a distrarsi con i romagnoli che al ventitresimo per poco non passano in vantaggio con la conclusione di Tosi sventata da Supermarconato. L'impressione è che in velocità gli aragonesi possano bucare la retroguardia bianco-azzurra e al ventisettesimo Fiore fa tutto bene ma la mira non è quella giusta. Due minuti dopo Manzo scalda i guanti al portiere Calderone. Ultima nota del primo tempo la conclusione di Bamonte dalla distanza che non sorprende Marconato. Più vastese per possesso palla ma le idee e le geometrie non sono quelle dei giorni migliori e nella ripresa gli ospiti sapranno approfittarne. Navisaglia è già al dodicesimo con la retroguardia vastese in pieno affanno. Gli aragonesi fanno fatica eppure Prisco al ventunesimo è sfortunato col pallo che gli nega il gol mentre al ventisettesimo si protesta per un presunto fallo di mano in area dell'Alfonsine. L'arbitro lascia correre. Alla mezz'ora l'episodio che segna la gara da calcio Franco e Bamonte che gira benissimo di testa e pone alle spalle di Marconato. Gioia bianco-azzurra col popolo bianco-rosso che rumoreggia a piena voce. La reazione non è affatto venemente. Al trentaduesimo Prisco servito da Mensà subisce l'intervento del portiere mentre sul calcio d'angolo successivo la deviazione di testa, sempre di Prisco, non trova fortuna. Triplice fischio con fischi sonori dell'Aragone. La vastese perde un'altra occasione, forse l'ultima tranne miracoli improbabili di fine stagione. La dirigenza adesso può cominciare davvero a progettare il futuro. Grazie a tutti.